Certo, sanno solo parlare, bla bla, d'altra parte. Buonasera, sono sicura che vi state chiedendo tutti la stessa cosa. Cosa avrà combinato Onam? Quale cattiveria avrà in mente stavolta? Beh, ho deciso. La vecchia è cattiva Onam. Ormai è un capitolo chiuso. Fino ad ora avete conosciuto una donna prepotente che si è comportata in un modo sbagliato. Voglio scusarmi con tutti voi. Vi chiedo perdono. E adesso è arrivato questo momento, sì. E spero che voi mi possiate perdonare. Purtroppo, è vero, mi sono comportata molto male. Ho reso il mio amato figliolo triste. E sono riuscita a rendere triste anche Oiko. Gli uomini hanno bisogno delle donne, ma anche le donne hanno bisogno degli uomini. Le donne e gli uomini hanno bisogno gli uni degli altri. È sempre stato così e sarà così per sempre. Siete meravigliosi. Il vostro amore è un esempio per tutti. Io non avevo alcun diritto di mettermi contro di voi. Nessuno può distruggere il vostro amore. E nessuno lo farà. Conosco moltissime coppie. Però... Voi siete speciali. Il vostro amore è un sentimento speciale. Oiko e Ayaz. Non si lasceranno mai. Dimenticatevi dei documenti per il divorzio. Ci penserò io. E Meral mi darà una mano. Ecco fatto. Ti devo ringraziare. Se tu non fossi stata qui, non sarei riuscita a parlare. Grazie davvero. Venite qui, per favore. Io vi voglio tanto bene. Non dimenticaterò mai. Se tu credi che si possa risolvere tutto in un attimo, ti sbagli. Riconquistare la mia fiducia non sarà una cosa semplice. Va bene, è giusto. È giusto. Voi avete ragione. Tutto quello che dite è giusto. So che sarà un percorso molto difficile, ma... Mettetemi alla prova. Vi renderete conto che sono cambiata. Fidatevi di me. Voglio solo che siate felici. Vi voglio bene. Sul serio. E voglio che siate felici. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E questa è la donna che amo. Vorrei che fossi sempre così. Sai, io non rifletto mai quando voglio fare delle domande. Quali domande? Ti andrebbe di parlare con me? Sì, certamente. Sì, certamente. Non voglio farti pressione. Ora vorrei soltanto ballare. Vuoi ballare con me? Beh, insomma, che cosa posso fare? Allora, vuoi restare ancora da tua madre, rispondi. Per ora, è meglio che resti lì. Per ora, è meglio che resti lì. In pratica, è come se fossimo all'inizio. Non ti manco neanche un po'? Ma certo che mi manchi. Ma certo che mi manchi. Non riesco a dormire. In realtà, tu mi avevi quasi respinto. Parli seriamente. Perché, scusa? Non è così? Ma no, è una cosa impossibile. Tu sei il mio supereroe. E tu la mia dolce fonte di guai. Ho capito che non posso farcela senza di te. Io l'ho capito un attimo dopo essere rimasto da solo. Io lo saprò appena uscirò da questa casa. Non ci lasceremo mai. Non ci lasceremo mai. Mete, mi dispiace per quello che è successo. Sei, ma credimi, io ho capito bene il nostro rapporto. Che vuoi dire? In realtà, non si tratta solo dell'altra sera. Non è solamente quello. Pensiamo all'ultimo periodo. A tutto quello che è accaduto. Io non sono un idiota. Ci abbiamo provato. E non è andata bene. Comunque, ecco, tra noi è sempre tutto complicato. Noi non riusciamo a stare bene insieme. Anzi, spesso ci facciamo anche del male. E quindi credo che non possa funzionare. E adesso, secondo te, come stiamo? Mi sembra che stiamo bene entrambi. Sì. Forse oggi stiamo meglio, ma... In realtà, io vorrei dare un'altra chance a NASA. Però, sai, ma se noi siamo davvero destinati a stare insieme, con il tempo le nostre strade si riuniranno. Una mattina ci sveglieremo. E allora, guardandoci, capiremo che... Vogliamo davvero stare insieme. Forse andrà così. Che ne dici? Nel tuo sguardo posso leggere il segreto del mondo. Qualunque cosa dicano, io ci credo. Come l'acqua che sgorga dalla roccia, il mio amore non si ferma mai. Con te i miracoli possono avvenire. E quello che dici è sempre verità. E ascolta bene la voce del cuore. L'amore non cambia mai. Basta che tu mi dia un bacio. E tutti i problemi diventano solamente un ricordo. Con te tutte le favole si avverano. Andre. Non è finita, però. Manca ancora qualcosa. L'ho scritta per te e diventerà una bella canzone. Io ti amo tanto. Qualunque cosa accada, lo sai, vero? Mi ammerai sempre? Finché vivrò. Mi sono preoccupato tanto. Ho avuto paura. Forse non mi ero mai preoccupato tanto prima d'ora. Per Vatican? Certo, per Vatican. Ti devo dire una cosa. Ascolta, tu e Vatican siete tutto per me. Non posso vivere senza voi due. Vorrei che fosse tutto diverso. Che non ci fossero tensioni. Non posso stare senza di te. Anche io vorrei stare con te. Ma a volte sei strano. Non ti riconosco più. Ci sono occasioni in cui è difficile capirti. Dove vai? Qui, e tu dove vorresti andare? Con te. Vorrei stare con te. Ah, fantastico. Speriamo che un giorno l'amore abbracci anche me. Speriamo che un giorno l'amore.